La Caritas di Ocesana si ritrova in assemblea a un momento importante nella giornata dedicata ai poveri. Quali sono le indicazioni che emergono da questo momento per la nostra chiesa locale? Innanzitutto di essere fermento di unità e di attenzione per avere occhi perché le comunità cristiane si accorgano dei bisogni del prossimo che sono di diversa specie e qualità. Non si risolve tutto con l'Elemosina, ci vuole anche quella, ma ci vuole una sensibilità umana che ci faccia riconoscere come cristiani in mezzo a una società multietnica e anche con vari progetti diversi dai nostri. Quali sono le indicazioni anche per le parrocchie che hanno delle Caritas attive per mettersi in rete e collaborare anche a livello di unità pastorale? Almeno in ogni unità pastorale ci deve essere la carità sparrucchiale perché la funzione della carità è la prima delle testimonianze che il Vangelo ci chiede di dare. È stato letto Matteo 25 e credo che sia importante dare il senso concreto dell'impegno verso gli altri attraverso nell'ascolto della parola di Dio e nella pratica delle cose che vanno fatte. Assemblea delle Caritas diocesane, la prima da quando lei è condirettore della Caritas diocesana di Arezzo Portone Sansepolcro. Quali sono gli obiettivi e cosa vi auspicate da questo momento e per i prossimi mesi per la Caritas diocesana e per le Caritas parrocchiali? La Caritas sta avendo ora un periodo ormai già da qualche mese di forte ripensamento alla luce delle deliberazioni del sinodo diocesano e delle indicazioni del nostro arcivescovo. Questo ripensamento ci sta portando a condividere proprio nell'ascolto e nello sporcarsi le mani con i più poveri. E per povertà non si intende solo quelli che si chiamano gli straccioni, per povertà si intende tutti i bisogni della persona umana che grida al cospetto di Dio. Ecco Caritas vuol dare una risposta a tutto questo e la vuol dare il nome del Vangelo e della Chiesa. Le Caritas parrocchiali sono il significato della comunità cristiana che si impegna alla carità. Quindi stamattina loro studieranno su questo, elaboreranno alcune cose, daranno orientamenti in modo che questo seme e entusiasmo interiore della carità si esprima non soltanto in quegli operatori della carità che sono nelle parrocchie ma in tutta la comunità.